Mettiamo in votazione la mozione numero 151, voti favorevoli, contrari, astenuti, la mozione è approvata all'unanimità. È stata approvata la sua mozione che stabilisce nella regione Lazio un salario minimo di 9 euro. Sì, è un segnale molto importante, giustamente come ricordava, approvata all'unanimità da tutte le forze politiche, sia di opposizione che di maggioranza. È una battaglia che le forze di opposizione hanno portato a livello parlamentare, purtroppo a livello parlamentare non si è riusciti a farla passare, ma il segnale che viene dalla regione Lazio è un segnale sicuramente incoraggianti. Io mi auguro che anche altre regioni possano cogliere il senso di questa proposta, che ovviamente riguarda un tetto minimo, non certo già coloro che lavorano e stanno sopra questo tetto, ma riguarda tutta una serie di servizi che oggi vengono appaltati e che stanno al di sotto di questo livello. Mi riferisco ad esempio ai servizi di vigilanza, ai servizi di mensa, ai servizi dei call center telefonici ed altri ancora. Si stabilisce un tetto, che è un tetto di civiltà, ovviamente anche una misura che poi andrà monitorata assieme all'organizzazione datoriale e all'organizzazione sindacale. Insomma, è un segnale di attenzione importante del Consiglio regionale. Ecco, una soglia minima di 9 euro sotto, la quale non si potrà più scendere finalmente. Esattamente, è un'indicazione importante per cui sotto quella soglia non si può più andare e questo io credo che sia un elemento assolutamente dirimente. E credo che su proposte di questo genere ci debba essere la massima coesione e questo mi rende particolarmente soddisfatto. Speriamo che sia poi recepita dalle altre regioni. Assolutamente, io spero che sia recepita, ma spero pure che possa essere di aiuto a livello parlamentare affinché anche l'Italia si possa dotare di una misura che poi nei fatti è una misura che hanno molti stati europei. Per cui, anzi, il problema nostro è che l'Italia stava indietro su questo punto. Ci siamo adeguati a ciò che indica l'Europa nel salario minimo.